ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora questo è una tipologia di video completamente differente ovvero sto facendo una fan art diciamo che questa l'ho disegnata io l'ho velocizzata e ci sto parlando sopra oggi ho portato la fan art di ayumi shinozaji della serie di corpse party ve le linko tutte e due qua in info box in descrizione e vabbè sì allora forse come non so se lo sapete però io sono un artista cioè mi definisco un artista però in realtà mi piace disegnare e lo faccio come hobby e se volete vedere altri disegni che ho fatto sono nell'altro canale che sempre ve lo metterò in descrizione e nell'info box allora fatemi sapere se vi piace questa cosa che sto facendo ovvero non so fan art e ditemi se volete altri video del genere e mandatemi anche voi le vostre fan art che io le metterò nei video ogni volta che che posso cioè cercherò ogni volta che mi manda che mi manderete una fan art cercherò di metterne una per video comunque niente allora ho fatto questa fan art con la tavoletta grafica e la mia tavoletta grafica è una intus pen touch comunque mi metterò il modello sempre sotto in descrizione se vi interessa non sono sponsorizzata dalla wecom però se mi vogliono pagare non mi farà schifo nel senso comunque vabbè scherzo ovviamente allora dato che siamo in tema così di corpse party e non so cosa dire cioè so che dovrei parlare del disegno che effettivamente sto facendo però non so che dire quindi non so allora pochi giorni fa è stato il mio compleanno il 3 luglio non so quando pubblicherò questo video ma comunque è stato pochi giorni fa e praticamente il 4 luglio cioè il giorno dopo sarebbe stato il compleanno di satomi orai che è la doppiatrice di seiko e io la adoro cioè satomi orai è il mio idolo a calcolare e praticamente tutto tutto il genere tipo oh mio dio domani è il compleanno di satomi orai e tutti mi dicevano ma non ti importa che ho detto compleanno del compleanno di satomi orai per farvi capire quanto sono disagiata e dato che sempre sto parlando di seiko bla 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 allora ho scritto una storia su wattpad che parla di seiko e nomi quindi se volete leggerla non so se riuscirò a mettervela in info box qui sopra oppure ve la metto in descrizione comunque andate a leggere perché è carina se scippate seiko e nomi è carina allora non dico altro boh non so parliamo di allora le fiere a quale fiere andrete perché io andrò allora a romix sicuramente a romix ci vado tutte tutte le edizioni a ottobre e andrò forse a luca comics non so se è sicuro però probabilmente probabilmente ci andrò comunque a romix è sicuro quindi se andate pure voi fatemelo sapere magari ci mettiamo d'accordo ci incontriamo non lo so se volete se non mi volete vedere va bene lo stesso comunque forse porterò il cosplay di seiko quando allora ho già fatto il cosplay di seiko però lo riporterei volentieri allora sono non so non vi metterò mai una foto del mio cosplay precedente perché non lo so l'ho fatto un po' a cavolo l'ultima volta però ho l'uniforme di seiko vabbè di pure di ayumi forse porterò quello di ayumi perché ho cambiato pettinatura quindi mi sa che forse porterò ayumi che mi faccio i capelli blu e porto ayumi sarà finissimo ok comunque fatemi sapere se se ci siete giuro che faccio il cosplay di seiko ayumi quello che volete e ci incontriamo allora credo di averlo quasi finito quindi non so allora se volete fatemi domande in descrizione da rispondere nel prossimo video ovviamente sempre se questo tipo questa tipologia di video vi piace fatemelo sapere per me è difficilissimo parlare così per un video intero però vabbè fatemi sapere comunque e potete farmi un ask così in modo che non so per conoscermi meglio se vi interessa non lo so e mandate fan art ovviamente credo che il video sia quasi finito e quindi niente lasciate un like un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao